Gentili telespettatori, buona giornata. Laura Boldrini, l'ex presidente della Camera, torna contro Meloni e Salvini. Ma dai, come mai? Usa toni durissimi. Come mai? Cosa sarà successo? È un fiume in piena e usa il viaggio della Meloni in Polonia, le dichiarazioni del ministro ai trasporti e alle infrastrutture per versare la sua ideologia, soprattutto sulla Meloni. Dice che è in corso una gara assai poco edificante tra Meloni e Salvini in vista delle prossime elezioni europee. Fratelli d'Italia dice che non ci si può alleare con gli amici di Salvini, Le Pen e AFD, perché non sarebbero europeisti. E Giorgia Meloni oggi a Varsabia per incontrare il suo sodale Morawiki, che guida un governo sotto diverse procedure di infrazione per non rispetto dei valori fondamentali dell'Unione Europea. E poi aggiunge, per non parlare di quanto siano europeisti gli altri alleati di Meloni, i post-franchisti di Vox, proprio una bella gara tra urlatori anti-Unione Europea di vecchia data, che oggi si vogliono rifare un'immagine, una competizione taroccata tra falsi europeisti. Non ci crede nessuno. Quindi secondo la Boldrini sono urlatori. Urlatori perché i comizi di Vox sono urlati e la Meloni quando va in Spagna anche lei urla, perché a Vox piace la Meloni quando urla. Però il modo di come uno fa politica, che parla sottovoce, parla normale, a voce alta, a tratti urla. Beh, la politica è fatta di comizi, la politica è fatta di queste cose qua. Io non ho paura di una persona che fa un comizio e grida. Può gridare, può parlare, può fare un balletto, può cantare e ballare come la Schlein sulle note di Paola e Chiara. Ecco, insomma, non vedo un problema se la Meloni in passato ha fatto degli interventi urlati, chiamiamo così. Sì. E poi sono tutti in Europa, sono tutti partiti che sono in Europa, sono partiti di paesi che sono in Europa. Certo ci sono partiti che criticano l'Europa, partiti che non le criticano, partiti che vorrebbero un'Europa diversa. Insomma, anche in Italia ci sono partiti anti-italiani, come quello a cui appartiene la Boldrini, secondo me è un partito anti-italiano perché è sempre dalla parte sbagliata. È con quelli che imbrattano i monumenti, quindi sta dalla parte di chi commette illegalità, sta con quelli che fanno i rave party abusivi dove vendono sostanze e tutto quanto, quindi anche in quel caso sono dalla parte dell'illegalità. sul MES tifano per l'Europa, perché bisogna essere europeisti, prima viene l'Europa e poi l'Italia. Anti-italianità. Insomma, questi sono i primi esempi che mi vengono in mente, tra tantissimi che ho documentato in ogni video, di anti-italianità e di atteggiamento fiancheggiatore dell'illegalità. Queste sono le caratteristiche principali, ad esempio facciamo entrare tutti in Italia senza documenti, è contro le leggi italiane, perché le leggi italiane, come tutte le leggi dei paesi del mondo, dicono che non si entra nel proprio paese senza documenti. Quindi essere favorevoli all'immigrazione clandestina vuol dire fiancheggiare l'illegalità, approvare l'illegalità. Quindi il partito della Boldrini è sempre dalla parte sbagliata, molto spesso a favore dell'illegalità e molto spesso anti-italiano. Come quando Letta, l'ex capo politico, faceva un video in tre lingue dicendo state attenti all'Italia perché sono pericolosi per la democrazia italiana ed europea. Quindi addirittura andava da Schultz a chiedere aiuto, lì arrivano i fascisti, una roba... il partito della Boldrini dire vergognoso è poco, è poco. Quindi che la Boldrini critichi la Meloni perché aveva fatto un comizio urlando, seppur non è proprio molto elegante mettersi a urlare, però questo è. Insomma a me non fa nessuna paura chi urla ad un comizio dicendo comunque delle frasi che comunque non offendono e non insultano nessuno. Quindi poi Salvini urlatore, insomma Salvini non è uno che urla, parla ai comizi, quindi Salvini non è un urlatore, pertanto gara tra urlatori anti-europei non ha senso anche perché la Meloni non è anti-europea, è a capo di un grande partito europeo, è stata appena riconfermata come presidente dei conservatori europei, va continuamente in Europa, pertanto un tempo la Meloni era anti-europea come Salvini era anti-europeo, oggi sono europeisti, assolutamente europeisti, pertanto il discorso della Boldrini dovrebbe essere basato più che altro su dei fatti concreti e non queste parole urlano vox anti-europeisti. Insomma Boldrini parliamo di cose serie, se ci sono delle rimostranze verso questo governo su quello che sta facendo parlate di quello, ma parlare un po' così a vanvera, giusto per dire qualcosa contro il governo, la prima cosa che passa per la mente, perché è evidente che la Boldrini non sa cosa dire e allora dice urlano anti-europeisti ma non gli crede nessuno. Queste sono frasi fatte quando non sai cosa dire ti rimballo queste cose qua. Questo è il punto. Io pertanto vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete dove trovate video come questi, poi i video di questi due canali, Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete, li trovate poi condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia dove poi, se volete condividerli a vostra volta, lo potete fare. Grazie e buon proseguimento di giornata, di serata.